Se allenate in maniera meccanica quello che stiamo facendo e non ci mettete dentro l'emozione più probabile, cioè una paura che deve tirare fuori un'aggressività, state immaginando che basterà imparare un movimento per poi rifarlo. Come se non esistesse l'inibizione della paura, che è l'inibizione più grande. Quindi devo, quando sono in attesa, devo assolutamente immedesimarmi e all'azione partire deciso, cioè devo imparare a connettere paura con aggressività. Qualsiasi animale, qualsiasi aggredito prima di soccombere, aggredirà. Attenzione che quell'aggressività che uscirà quando stai per morire perché non puoi fare nient'altro, se noi riusciremo a tirarla fuori prima di soccombere, sarebbe bene. Tenete conto che se non siamo abituati a tirarla fuori per gioco qui simulata artificiale, magari non saremmo in grado di tirarla fuori. Ci sono delle persone che non sono in grado di essere aggressivi. Io sono uno molto calmo, mi piace la vita calma. Ti piace o non sai essere in maniera diversa? Perché poi assistiamo a quelle persone che nella vita sono tutti midi e gentili, e poi magari su Facebook sono aggressivi e violenti. Allora non è una scelta quella della vita, è che lui lì non è capace di imporsi, e invece di erano tastiera sì. Attenzione, proviamo a riuscire, addestriamo questo nostro istinto aggressivo che esiste e ce l'abbiamo, se siamo fino a qui oggi, i nostri progenitori ci hanno portato fino a qui, vuol dire che noi abbiamo quell'aggressività. altrimenti saremo già estinti, ok? Ma non come razza umana, tu, tu, io, tu, tu, e così via. Addestriamoci a tirare fuori quell'aggressività. Vuoi imparare a difenderti da aggressioni e prepotenze? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho lavorato nella sicurezza per ben 11 anni, e sono famoso perché per strada mi sono difeso decine di volte. Vuoi imparare a farlo anche tu? Fai una prova gratis con me, unisciti ai miei studenti, clicca il link che trovi nei commenti. Fai una prova gratis con me, unisciti ai miei studenti che trovi nei commenti. Fai una prova gratis con me, unisciti ai miei studenti che trovi nei commenti.